Sindaco di Scurcola, Olimpia Morgante. Sindaca, queste dimissioni ci sono o non ci sono? Le dimissioni ci sono, sono agli atti del Comune, sono protocollate al 20 febbraio, nonostante la stessa lettera porti come data il 18 febbraio. Quindi diciamo che abbiamo voluto aspettare un po' di tempo per capire quanto queste dimissioni potessero essere appunto accettate, in che modo. Non c'è stata interlocuzione con l'ex vice sindaco e per cui il sindaco ha ritenuto opportuno dare atto e quindi accettare le dimissioni del vice sindaco. Avendo dato poi una risposta per tempo nel giorno successivo dicendo che appunto apprendevo con stupore questa cosa perché fino a qualche giorno prima si era dimostrato comunque come attento e partecipe alle vicende del Comune. Poi così tutto insieme diciamo io la motivazione ovviamente non l'ho capita anche se sulla lettera viene genericamente riportato qualcosa. Addirittura mi si dice che io abbia offeso la sua moralità, cosa che non è mai avvenuta in questo senso, non ho mai avuto veramente modo di dover offendere o voler offendere la sua moralità. Quindi ho risposto dicendo che lo ringraziavo per il lavoro che aveva svolto fino a quel momento per la comunità di Scurcola e quindi prendevo atto delle sue dimissioni. Sindaca, mentre invece l'ex vice sindaco Fabio Mammarella sostiene di averla inviata non al sindaco ma era una lettera privata e personale e pertanto non da protocollare. Allora io ho trovato questa lettera intanto nella posta del sindaco, quindi posta istituzionale e oltretutto mi sono ritrovata la stessa lettera nella mia posta privata e in forma cartacea come la vede adesso sulla mia scrivania. Quindi diciamo che di personale c'era ben poco e di privato ancora meno perché se il vice sindaco avesse voluto avrebbe potuto chiamarmi dicendomi guarda sindaco che Olimpia sindaco come avrebbe voluto chiamarmi ti mando una lettera dove esprimo il mio disagio come ha voluto chiamarlo lui che sto vivendo in questo momento all'interno dell'amministrazione. Questa cosa non è avvenuta, è stato tutto così freddo e distaccato per cui ovviamente dopo due giorni di silenzio, dopo aver ricevuto questa lettera abbiamo ritenuto oltre che ovviamente era comunque depositata sulla posta istituzionale del sindaco, protocollarla anche in forma cartacea. Lei mi sta dicendo qualcosa di opposto perché dichiarazioni su testate giornalistiche che hanno dato anche grande spazio all'opposizione, lui dichiara di aver cercato di contattarla e di averle inviato molti messaggi. Diciamo che forse è meglio non parlare di messaggi perché i messaggi forse andavano in una direzione diciamo non voglio dire di ricatto, no? Assolutamente non vorrei usare questa parola, però comprende che davanti a una lettera di tale portata politica perché lui due volte sulla lettera di dimissioni è di direzione diciamo che è stato un po' 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 di direzione diciamo che è stato un po'